Oggi voglio parlarvi di un concetto che mi sembra che non riusciate ad assorbire propriamente. Quando io dico che nella manifestazione c'è bisogno di un'estrema chiarezza, che cosa intendo? Ovviamente a livello conscio dovete avere l'estrema chiarezza di quello che volete davvero, quindi quello che volete manifestare, ok? Ma se vi fermate a livello conscio, quindi usate il pensiero, usate la vostra immaginazione, usate svariate tecniche di manifestazione e vi fermate lì, non riuscirete a manifestare niente. Quindi l'estrema chiarezza cosa deve fare? Deve passare dal livello conscio, dal pensiero, dalla chiarezza su quello che volete manifestare di materiale e poi scendere a livello subconscio attraverso un'esplosione emotiva. Cioè, cosa state facendo? State convincendo la vostra mente subconscia che voi avete già quello che volete manifestare. Perché? Perché provate già l'emozione corrispondente ad avere il vostro desiderio tra le mani. Quindi, per fare un esempio chiarissimo, non è tanto motivante o importante manifestare i 50, i 100 mila o un milione di euro, ma è l'emozione che quel milione di euro vi darebbe se lo aveste già in questo momento. L'emozione è relativa allo stile di vita che potreste portare avanti con quel milione di euro o di una cifra minore, insomma, quello che volete, o di una persona accanto, una macchina sportiva, qualsiasi cosa. Non è importante la materialità dell'oggetto in se stesso quanto l'emozione corrispondente ad averlo, a possederlo. Quindi è qui che dovete giocare, perché solo il subconscio manifesta, solo l'emozione manifesta. Cosa significa? Che l'emozione che voi provate relativamente al desiderio richiama a livello elettromagnetico, a livello di vibrazioni, richiama lo stesso tipo di emozione. Quindi cosa fa? Richiama a voi, spinge a voi l'oggetto dei vostri desideri. Ma perché? Perché il subconscio pensa già di averlo. E siccome il subconscio tende a ripetere le stesse situazioni, gli stessi eventi, le stesse emozioni relativamente a qualcosa che vi fa stare bene o che vi fa stare anche male, anche perché purtroppo è così, se il vostro subconscio crede già a livello emotivo che voi avete il vostro desiderio tra le mani, che ne usufruite in questo momento, tenderà a ripetere lo stesso circuito e spingerà verso di voi lo stesso tipo di situazioni che voi in questo momento presente provate già. Quindi è come se diceste, caro subconscio, io ho già quello che voglio manifestare. Quindi continua ad inviarmelo. Quindi l'emozione richiama lo stesso tipo di emozione. L'emozione relativa al vostro desiderio vi pone sullo stesso livello di frequenza vibratoria del desiderio stesso. E siccome in quella frequenza lì il vostro desiderio è già incluso, ovvio che poi si manifesterà nella vostra realtà. Quindi, per terminare, non vi fermate a livello conscio. Non usate varie tecniche di manifestazione così a caso. Dovete spostarvi dal conscio al subconscio, altrimenti non funzionerà niente. Se poi avete bisogno, prenotate una sessione gratuita con me. Link in bio. A presto!